Margherita Rucco, co-titolaia di Re-Evolution, ci presenta Strong Old Battle, un'iniziativa che per il secondo anno di fila, a settembre, si svolgerà in fortezza. Di cosa si tratta? Ciao, buongiorno e grazie innanzitutto. Allora, Strong Old Battle è una gara di CrossFit, quindi una gara che, come hai detto correttamente, è il secondo anno che proponiamo qui a Siena, in fortezza Medicia. Grazie all'assessorato che ci sostiene al Comune di Siena abbiamo organizzato questo evento che si articolerà su due giorni, 9 e 10 settembre 2023. Uno dei concetti fondamentali di questa iniziativa è l'inclusività. Cosa significa? Allora, l'inclusività è intesa come possibilità per tutte le persone di partecipare a questo evento e divertirsi. Che cosa significa? Un evento competitivo dove anche i beginner, quindi persone che si sono avvicinate a questo sport da poco tempo, avranno la possibilità di calcare un floor di gara di tutto rispetto in una location, che insomma potete vedere quanto è di impatto, e divertirsi. Quindi ci saranno diverse categorie, ci saranno beginner, ci sarà la categoria intermediate, RX, che sono persone che hanno carichi molto alti e skill molto evolute, e infine i master 80, che sono persone, due persone insieme, che superano gli 80 anni di vita, perché sarà una gara a team di due. Quindi diamo la possibilità anche a persone di 40 anni o comunque che si tengono in forma di partecipare a questa bella competizione. Quindi ci tenevo, e grazie per la domanda, a sottolineare appunto questo aspetto. Tutti possono finalmente divertirsi e essere agonisti in un palcoscenico appunto di tutto rispetto. L'iniziativa cerca di coniugare lo sport al turismo, in che senso? Esatto. Allora, noi vogliamo creare un format molto particolare dove non solo lo sport è protagonista, ma anche la cultura. Vogliamo dare la possibilità a questi atleti di conoscere le bellezze di Siena, quindi accompagnarli anche attraverso la promozione di pacchetti culturali, tour anche non gastronomici, a scoprire le bellezze della Toscana e della nostra città, ecco. Lo sport è una componente importante per la vita? Lo sport è una componente fondamentale, serve per stare bene, è una delle variabili che secondo me tutti dovremmo insomma curare nel nostro percorso per tenerci in forma e stare bene anche dal punto di vista emotivo, intellettuale, ecco. Assessore Benini, cosa significa questa iniziativa per la città di Siena? Allora, io diciamo, come ho detto più volte, ho avuto la fortuna di fare assessore su un settore che poi riguarda più direttamente le mie competenze, anche lavorative, quindi chiaramente ho potuto spendere, come voglio dire, un pensiero diverso su questo campo. Tendo molto intanto a sottolineare che appoggio volentieri, ho sempre sostenuto volentieri tutte quelle iniziative che mi sono state proposte e che sono innovative, cioè bisogna capire che lo sport ha cambiato a molte forme espressive adesso, ci sono tanti sport emergenti che in altre nazioni sono già emersi e che si stanno affacciando anche da noi e in particolare si stanno affacciando a Siena. In particolare mi riferisco a tutti questi sport che sono sport di endurance che per il sistema poi in cui sono strutturati e per la cultura che hanno dentro puntano sia al valore risultato assoluto, ma poi ognuno ha il suo proprio home resource, cioè il suo proprio risultato all'interno della competizione è quello di migliorare la propria performance e i propri record, non tanto in un valore assoluto ma per se stessi. E questa è una caratteristica molto più forte negli sport che io caratterizzo come sport di endurance, dove c'è il rapporto con la fatica, con la dimensione personale, con le emozioni che giocano un ruolo importante poi nella prestazione che si può fornire. Quindi c'è la novità e quindi la necessità di innovare, c'è un tipo di cultura che a me piace molto di più rispetto ad altri sport che la potrebbero acquisire, c'è poi appunto la promozione del turismo sportivo, ma nello sport bisogna che tutti capiscono che si coniuga col territorio e che bisogna però anche non viverlo così come uno sport, ma bisogna cercare di capire qual è l'impatto anche sui costi sanitari della pratica sportiva da parte di una collettività, che lo può praticare con le dovute maniere a tutte le età, è una visione di igiene, di vita, di cultura, di vita personale, che deve puntare al benessere. Cioè il benessere non è solo il guadagno, ma il benessere è anche la valorizzazione di altri aspetti della vita. E lo sport, come l'arte del resto, alla quale io sono meno vicino per estrazione professionale, ma che in fondo lo sport è una forma d'arte, quindi secondo me puntano al benessere dell'anima. Forse bisogna recuperare questa dimensione attraverso questi sport innovativi che si stanno affacciando e che stiamo promuovendo, quindi c'è stato questo e ce ne sono altri. La cosa importante è che Margherita anno scorso ha portato questa iniziativa dove c'era un certo numero di persone, c'è la tenacia di chi li porta avanti e l'anno successivo mi presenta probabilmente uno stesso scenario con il quadruplo o il quintupo degli atleti che c'erano l'anno scorso. Perché è ovvio che iniziative sportive non devono essere one shot, ma devono essere qualcosa che nasce e poi viene sviluppato nel tempo. E si sviluppa nel tempo lo fanno solo le persone che ci credono nelle cose che fanno, per no gli altri non hanno quel tipo di costanza.